Quarto video dedicato agli esercizi di riepilogo per quanto riguarda il calcolo delle aree e anche dei volumi che vedremo più avanti. Primo esercizio data la funzione y uguale a meno bx quadro fratto x più c, quindi scriviamoci la funzione y uguale a meno bx quadro fratto x più c, determinare i valori di a, b e c per i quali ha un asintoto obliquo di equazione y uguale meno 2x più 8, quindi dobbiamo cercare a, b e c per i quali sia y uguale meno 2x più 8 come asintoto obliquo. E' un punto di massimo di ascissa x uguale meno 4 più 2 radice di 3 e quindi Calcolare quindi l'area della regione finita di piano limitata dal grafico della funzione e dall'asse x. Quindi come prima cosa dobbiamo calcolare a, b e c sfruttando i due suggerimenti che ci dà il problema. Allora per quanto riguarda l'asintoto obliquo sappiamo che il limite per x che tende a più infinito di f di x fratto x ci determina il coefficiente angolare m dell'eventuale asintoto obliquo che la funzione ha. Qui ci dice che questa funzione ha questo asintoto obliquo e che m è uguale a meno 2 e quindi scriviamocelo uguale meno 2. Andiamo a sostituire la funzione fratto x e quindi limite per x che tende a più infinito di a meno b x quadro fratto x più c per 1 fratto x uguale meno 2. Quindi ancora limite per x che tende a più infinito di a meno b x quadro fratto moltiplichiamo a denominatore e abbiamo x quadro più cx uguale meno 2. Ora ordiniamo al numeratore secondo le potenze decrescenti della x e quindi abbiamo limite per x che tende a più infinito di meno b x quadro più a fratto x quadro più cx uguale meno 2. Raccogliamo a fattor comune le potenze di grado massimo sia a numeratore che a denominatore quindi limite per x che tende a più infinito di x al quadrato che moltiplica meno b più a fratto x al quadrato fratto x al quadrato che moltiplica 1 più c fratto x uguale meno 2. Calcoliamo il limite quando x tende a più infinito a fratto x quadro è 0 e c fratto x è 0. Semplifichiamo anche x quadro con x quadro otteniamo l'equazione meno b fratto 1 uguale a meno 2 cioè meno b uguale meno 2 e quindi b vale 2. Ora sempre dalla conoscenza dell'equazione dell'asintoto obliquo abbiamo che il termine noto è uguale a 8 e sappiamo che questo si ricava calcolando il limite per x che tende a più infinito di f di x meno mx e quindi questo è uguale a q come detto uguale a 8. Andiamo a sostituire la funzione e abbiamo limite per x che tende a più infinito di... qui possiamo considerare già 2 al posto di b e quindi a meno 2x quadro fratto x più c meno... al posto di m consideriamo meno 2 e quindi questo significa meno meno 2 e quindi più 2x uguale a 8. Facciamo il minimo comune multiplo, qui dividiamo i due contributi, dicevo facciamo il minimo comune multiplo quindi limite ancora per x che tende a più infinito di linea di frazione minimo comune multiplo x più c, al numeratore abbiamo a meno 2x quadro e poi più 2x che moltiplica x più c, quindi 2x quadro più 2cx, questo deve essere uguale a 8. meno 2x quadro più 2x quadro è 0 e quindi riscriviamoci limite per x che tende a più infinito di 2cx più a fratto x più c uguale a 8. Anche qui raccogliamo x sia al numeratore che al denominatore abbiamo limite per x che tende a più infinito di x che moltiplica 2c più a fratto x fratto x che moltiplica 1 più c fratto x uguale a 8. Semplifichiamo x con x, a fratto x quando x tende a infinito va a 0, c fratto x la stessa cosa e quindi ora calcolando il limite otteniamo che 2c fratto 1 è uguale a 8 cioè 2c uguale a 8, vale a dire c uguale a 4. Ora sfruttiamo l'altro elemento che ci dà il problema, cioè ci dice che la funzione ha un massimo per x, riscriviamocelo qua, x uguale a meno 4 più 2 radice di 3, questa è x di m. Andiamo a riscriverci anche la funzione che abbiamo fino a qui determinato, quindi a che è ancora incognito, meno 2x quadro dove 2 è b fratto x più c dove c è 4, quindi x più 4. Calcoliamo la derivata prima, y primo uguale derivata del numeratore che è meno 2 per 2x, quindi meno 4x, per il denominatore non derivato, quindi x più 4, meno il numeratore così com'è, quindi a meno 2x quadro per la derivata del denominatore che è 1, fratto il denominatore al quadrato, quindi x più 4 al quadrato uguale. Svolgiamo i calcoli e abbiamo meno 4x al quadrato, meno 16x, meno a più 2x al quadrato, fratto x più 4 al quadrato. E quindi qui ancora possiamo scrivere meno 4x al quadrato più 2x al quadrato è meno 2x al quadrato, poi abbiamo meno 16x più a fratto x più 4 al quadrato. Allora, sfruttiamo il fatto che conosciamo la scissa del massimo perché sappiamo che questa annulla la derivata prima, essendo appunto un massimo, quindi scriviamo sostituendo x con m, meno 2x che moltiplica meno 4 più 2 radice di 3 al quadrato, meno 16 che moltiplica meno 4 più 2 radice di 3, attenzione qui è meno a, quindi meno a, fratto x, quindi ancora meno 4 più 2 radice di 3 più 4, tutto al quadrato uguale a 0. E da qui richiaviamo a, quindi. Adesso il denominatore lo possiamo eliminare tranquillamente, essendo un numero. Quindi facciamo il quadrato meno 2 che moltiplica 16 meno 4 per 2 è 8 per 2 è 16 radice di 3 e poi abbiamo il quadrato di 2 radice di 3 che è 4 per 3, cioè 12. Qui possiamo moltiplicare, abbiamo meno 16 per meno 4 che è più 64 e poi abbiamo meno 16 per 2 che è meno 32 radice di 3, meno a uguale 0. Dentro la parentesi abbiamo 16 più 12 che è 28 per meno 2 è meno 56, meno 2 per meno 16 radice di 3 è più 32 radice di 3, poi abbiamo il 64 e poi abbiamo il meno 32 radice di 3, meno a uguale 0. 32 radice di 3 meno 32 radice di 3 è 0, 64 meno 56 è 8 e quindi abbiamo 8 meno a uguale a 0, il che ci dà a uguale a 8. Bene, quindi la nostra funzione sarà y uguale a 8 meno 2 x quadro fratto x più 4. Ora, anche se non è strettamente necessario per calcolare l'integrale, facciamo per esercizio lo studio di questa funzione e poi calcoliamo l'area dopo aver disegnato il grafico. Prima cosa il dominio. Qui abbiamo a denominatore x più 4, sappiamo che la condizione di esistenza ci impone che x più 4 sia diverso da 0 e quindi x diverso da meno 4. e quindi il dominio sarà qualsiasi x appartenente all'unione degli intervalli meno infinito, meno 4, meno 4 più infinito. In pratica tutto r tranne meno 4. simmetrie, sostituendo meno x otteniamo 8 meno x al quadrato è sempre x al quadrato, quindi meno 2 x al quadrato fratto meno x più 4 e concludiamo che qui non ci sono simmetrie, quindi no simmetrie. Vediamo il segno. Dobbiamo studiare la disequazione 8 meno 2 x al quadrato fratto x più 4 maggiore o uguale a 0 e quindi il numeratore 8 meno 2 x al quadrato è maggiore o uguale a 0 quando dividendo tutto per 2, 4 meno x al quadrato è maggiore o uguale a 0. Ora questo binomio ha due radici reali che sono x uguale più e meno 2, cioè x uguale più e meno radice di 4 che è 2 appunto. Essendo il coefficiente del termine in x al quadrato negativo, questa ricordo una parabola, la regola ci dice per questo trinomio che questo è positivo per valori interni alle radici. Quindi x compreso tra meno 2 e 2. Il denominatore x più 4 strettamente maggiore di 0 per x maggiore di meno 4. Andiamo a fare il grafico dei segni. Abbiamo meno 4, meno 2 e 2. Ora il numeratore è positivo per valori interni alle radici, quindi linea continua tra meno 2 e 2. Il denominatore è positivo per x maggiore di meno 4 e quindi linea continua per x maggiore di meno 4. Si formano questi intervalli che vado a indicare. Il primo è positivo, il secondo è negativo, poi abbiamo positivo e negativo. E quindi concludiamo che y è maggiore di 0, cioè positiva per x minore di meno 4 e x compreso tra meno 2 e 2. Estremi inclusi, possiamo anche mettere un maggiore uguale. Ora, intersezione con gli assi. Con l'asse x, cioè y uguale a 0, mettiamo a sistema y uguale a 0 e y uguale a 8 meno 2x al quadrato fratto x più 4 e otteniamo 8 meno 2x al quadrato fratto x più 4 uguale a 0. Possiamo eliminare il denominatore. Abbiamo già discusso l'esistenza e qui otteniamo, dividendo per 2, 4 meno x quadrato uguale a 0, cioè x uguale più meno 2, informazione che già sapevamo. Quindi l'intersezione con l'asse x avviene nel punto A di coordinate meno 2, 0 e B di coordinate 2, 0. Ora, intersezione con l'asse delle y, che significa x uguale a 0, x uguale a 0, y uguale a 8 meno 2x al quadrato fratto x più 4. Qui si tratta di sostituire 0 in y e quindi y uguale a 8 fratto 4, cioè 2. E quindi la funzione incontra l'asse delle y nel punto di coordinate 0, 2. Per quanto riguarda i limiti, sappiamo già che ha un asintoto obliquo. Vediamo cosa succede per quanto riguarda il valore meno 4, dove sappiamo che ha un asintoto verticale. Quindi, intanto scriviamoci limiti, quindi asintoto verticale in x uguale a meno 4. Andiamo a fare i limiti da destra e da sinistra e abbiamo limite per x che tende a meno 4 da sinistra di 8 meno 2x al quadrato fratto x più 4 è uguale a 8 meno 2 meno 4 meno al quadrato fratto meno 4 meno più 4 uguale. Allora, meno 4 meno al quadrato è 16, qui possiamo considerare 4. 16 per 2 è 32 con il meno davanti meno 32, 8 meno 32 meno 24. A denominatore abbiamo meno 4 meno, che significa in valore assoluto maggiore di 4, cioè stiamo arrivando da sinistra a 4, e questo ci dà uno 0 meno, che significa più infinito. Limite per x che tende a meno 4 da destra di 8 meno 2x al quadrato fratto x più 4 è uguale. Sostituiamo anche qui, abbiamo 8 meno 2 che moltiplica meno 4 da destra al quadrato fratto meno 4 da destra più 4 uguale. A numeratore abbiamo la stessa situazione del caso precedente, cioè meno 24. A denominatore invece meno 4 più in valore assoluto è minore di 4 e quindi abbiamo uno 0 più, che ci fa concludere che quando veniamo da destra a meno 4 la funzione va a meno infinito. Bene, studiamo anche la derivata prima giusto per la conferma del massimo e quindi riscriviamoci la funzione La derivata prima è uguale, derivata del numeratore, cioè meno 4x per denominatore non derivato, meno il numeratore così com'è, quindi 8 meno 2x quadro, per la derivata del denominatore. La derivata del denominatore è 1 fratto x più 4 al quadrato. Questa è uguale a meno 4x al quadrato, meno 16x, meno 8 più 2x al quadrato, fratto x più 4 al quadrato. Ancora sommiamo meno 4x quadro più 2x quadro e otteniamo meno 2x al quadrato, meno 16x, meno 8, fratto x più 4 al quadrato. Sappiamo che studiando il segno e gli zeri stabiliamo gli eventuali massimi e minimi e quindi dobbiamo fare lo studio di questa disequazione. Meno 2x quadro, meno 16x, meno 8, fratto x più 4 al quadrato, maggiore o uguale a 0. Vediamo il numeratore. Il numeratore dividiamo intanto per 2 e abbiamo meno x quadro, meno 8x, meno 4, maggiore o uguale a 0. Questo significa x 1, 2 uguale... ricordo che il coefficiente di x quadro è a, meno 1, il coefficiente di x è b, meno 8, il coefficiente termine noto è meno 4c. Applichiamo la formula risolutiva ridotta in quanto b è pari e quindi b mezzi, cioè 4, col meno davanti, 4 più meno radice quadrata di b mezzi quadro, cioè 16, meno ac e quindi meno per meno più rimane meno, ac significa 4, fratto a, cioè meno 1, uguale. Quindi dividiamo già per meno 1 e otteniamo meno 4, meno più, 16 meno 4 è 12, la radice di 12 è la radice di 4 per 3. Portiamo il 4 fuori dalla radice e quindi otteniamo 2 radice di 3. Quindi abbiamo due valori che sono meno 4 meno 2 radice di 3, quello minore, e meno 4 più 2 radice di 3, quello maggiore. La regola del trinomio, essendo il coefficiente del termine al quadrato negativo, ci dice che il trinomio è positivo per valori interni alle radici, quindi meno 4 meno 2 radice di 3, minore uguale di x, minore uguale di meno 4 più 2 radice di 3. Ora andiamo a vedere il denominatore, il denominatore è x più 4 al quadrato, e questo è maggiore di 0 sempre, tranne che in x uguale a meno 4, dove si annulla. Con queste informazioni andiamo a fare il grafico della derivata prima. quindi abbiamo meno 4 meno 2 radice di 3, meno 4 e poi meno 4 più 2 radice di 3. Numeratore positivo per valori interni alle radici, quindi siamo tra meno 4 meno 2 radice di 3 e meno 4 più 2 radice di 3, all'esterno è negativo e il denominatore è sempre positivo, tranne che per x uguale meno 4, dove si annulla. Individuiamo questi intervalli che vado a segnare. Nel primo abbiamo la funzione negativa, poi abbiamo positività, positività e negatività. Quindi, per x minore di meno 4 meno 2 radice di 3, la funzione decresce. Poi cresce, poi cresce ancora e poi decresce di nuovo. In meno 4 meno 2 radice di 3 abbiamo un minimo e in meno 4 più 2 radice di 3 abbiamo un massimo, il che ci conferma il dato del problema. Abbiamo tutte le informazioni per disegnare il grafico, ve lo lascio come esercizio. Andiamoci a calcolare l'area che il grafico della funzione forma con l'asse delle x. Quest'area sarà uguale a integrale tra meno 2 e 2 di 8 meno 2x al quadrato fratto x più 4 in dx. Abbiamo una funzione razionale, il grado del numeratore è maggiore del grado del denominatore, quindi cerchiamo di abbassarlo, cioè abbassiamolo, dividendo il numeratore per il denominatore. Facciamo la divisione, quindi ordiniamo secondo le potenze decrescenti di x, manca il primo grado e poi abbiamo 8 diviso x più 4 meno 2x, cioè meno 2x quadro fratto x è meno 2x. Ora rimoltiplico, meno 2x per x è meno 2x quadro, cambiato disegno è 2x quadro. Poi abbiamo meno 2x per 4, che è meno 8x, cambiato disegno, più 8x più 8. Sommiamo, abbiamo 0, 8x più 8, ora 8x diviso x è 8, e quindi più 8, 8 per x è 8x, cambiato disegno è meno 8x, 8 per 4 è 32, cambiato disegno è meno 32. Sottraiamo e otteniamo 0 e meno 24, quindi abbiamo meno 24 come il resto. E quindi 8 meno 2x quadro fratto x più 4, possiamo scriverla come meno 2x più 8, cioè il risultato della divisione, meno il resto fratto il divisore. e quindi meno 24 fratto x più 4. E quindi riscriviamoci l'integrale. L'area è uguale all'integrale tra meno 2 e 2 di meno 2x più 8 meno 24 fratto x più 4 in dx. uguale. Ora calcoliamo le primitive e abbiamo meno 2 per un mezzo x al quadrato più 8x meno 24 e qui abbiamo il logaritmo del modulo di x più 4. questo è da calcolare tra meno 2 e 2. 2 e 2 fa 1, sostituiamo gli estremi di integrazione e abbiamo meno 4, cioè meno x al quadrato, più 16, meno 24 logaritmo naturale di 2 più 4, cioè di 6, ed ora meno, quindi più 4, meno 8 per meno 2, quindi più 16, e poi meno 24, quindi più 24, logaritmo di meno 2 più 4, cioè logaritmo naturale di 2. uguale. meno 4 più 4 fa 0, 16 più 16 è 32, 32, e poi abbiamo meno 24 logaritmo di 6 più 24 logaritmo di 2. meno 24 logaritmo di 6 possiamo scriverlo come meno 24 logaritmo di 2 per 3 e poi più 24 logaritmo di 2 uguale. Lo scrivo così perché ora trasformo il logaritmo del prodotto nella somma dei logaritmi, quindi 32 meno 24 logaritmo di 2 meno 24, naturalmente avevamo un meno davanti, logaritmo di 3 più 24 logaritmo di 2. Ho fatto questo perché adesso meno 24 logaritmo di 2 più 24 logaritmo di 2 fa 0 e quindi il risultato, che è l'area della regione di piano richiesta dal problema, è 32 meno 24 logaritmo naturale di 3. secondo esercizio, tracciare i grafici delle due funzioni y uguale 4 fratto 1 più x quadro quindi questa la chiamiamo y1 uguale 4 fratto 1 più x al quadrato e quest'altra la chiamiamo y2 uguale 2x al quadrato quindi determinare l'area della regione finita di piano da essi delimitata. Bene, per tracciare i grafici dobbiamo studiarci le funzioni la seconda è abbastanza semplice, una parabola che ha il vertice nell'origine e quindi andiamo a studiare la prima cioè y1 uguale 4 fratto 1 più x quadro dominio visto che 1 più x al quadrato è diverso da 0 sempre essendo una somma di quadrati questa funzione esiste per qualsiasi x appartenente a R vediamo eventuali simmetrie y di 1 di meno x è uguale a 4 fratto 1 più meno x al quadrato scriviamolo meno x al quadrato è uguale a 4 fratto 1 più x al quadrato e quindi è uguale a y di x e quindi abbiamo una simmetria rispetto all'asse delle ordinate ora studiamo il segno studiare il segno significa studiare la disequazione 4 fratto 1 più x al quadrato maggiore uguale a 0 questo è banale perché il numeratore è sempre positivo essendo 4 un numero il denominatore, una somma di quadrati, è sempre positiva e quindi questa funzione sarà sempre positiva non si annulla mai y1 maggiore di 0 sempre quindi siamo nel semipiano positivo delle ordinate vediamo l'intersezione che ho gli assi questo significa cercare l'intersezione con l'asse delle y in quanto non annullandosi mai non interseca l'asse delle x quindi intersezione intersezioni con gli assi e quindi abbiamo detto segniamocelo asse x cioè y uguale a 0 no intersezioni asse y cioè x uguale a 0 sostituiamo 0 nella funzione e otteniamo y uguale 4 fratto 1 più 0 cioè 4 il punto di intersezione con l'asse delle y quindi 0 4 vediamo ora i limiti quindi facciamo i limiti per x che tende a più e meno infinito anche qui sono molto semplici limite per x che tende a meno infinito di 4 fratto 1 più x quadro è uguale a 4 fratto più infinito cioè 0 e la stessa cosa vale quindi possiamo scrivere uguale al limite per x che tende a più infinito di 4 fratto 1 più x quadro quindi y uguale a 0 cioè l'asse delle x è un asintoto orizzontale ora facciamo la derivata prima per verificare se abbiamo massimi o minimi la funzione riscriviamoce la è 4 fratto 1 più x quadro e quindi y primo è uguale la derivata del numeratore 0 quindi non scriviamo la relativa moltiplicazione sappiamo che dobbiamo fare quindi meno il numeratore per la derivata del denominatore quindi per 2x fratto 1 più x al quadrato e questo ci dà meno 8x fratto 1 più x al quadrato studiamo il segno quindi studiamo la disequazione meno 8x fratto 1 più x quadro maggiore o uguale a 0 questo significa abbiamo al numeratore meno 8x maggiore o uguale a 0 cioè x minore o uguale a 0 al denominatore abbiamo il quadrato ho dimenticato di segnarlo ma comunque non influisce sui calcoli perché è sempre positivo quindi 1 più x al quadrato al quadrato maggiore di 0 sempre non si annulla mai ora facciamo il grafico abbiamo 0x numeratore linea continua per x minore di 0 e si annulla proprio in 0 denominatore è sempre positivo individuiamo due intervalli uno positivo e uno negativo nel primo la funzione cresce nel secondo decresce quindi in x uguale a 0 abbiamo un massimo ricordo che x uguale a 0 è anche il punto di intersezione con l'asse del y quindi il massimo a coordinate 0,4 per quanto riguarda la parabola non eseguiamo lo studio infatti è banale sappiamo che è simmetrica e ha il vertice nell'origine quindi andiamo a disegnarci le due funzioni abbiamo detto che la y1 cioè 4 fratto 1 più x quadro ha l'asintoto orizzontale asse x massimo in 0,4 e quindi a destra dell'asse y fa così e siccome è simmetrica stessa cosa a sinistra dell'asse y la parabola ha il vertice nell'origine e quindi sarà circa questa l'area che ci chiede il problema è quella che segna in rosso ora per scrivere l'integrale dobbiamo determinare i punti di intersezione tra le due curve che sono gli estremi dell'integrale poi vista la simmetria scriveremo solo l'integrale tra 0 e l'ascissa del punto chiamiamolo a due volte quindi mettiamo a sistema le due equazioni y1 uguale 4 fratto 1 più x al quadrato e y2 uguale 2x al quadrato eguagliamo i secondi membri e otteniamo 4 fratto 1 più x al quadrato uguale 2x al quadrato questo significa 4 eliminiamo il denominatore uguale 2x al quadrato che moltiplica 1 più x al quadrato dividiamo per 2 e otteniamo 2 uguale x al quadrato più x alla quarta portiamo tutto a primo membro e abbiamo x al quadrato e abbiamo x alla quarta più x al quadrato meno 2 uguale 0 questa è una biquadratica possiamo per trovare i zeri porre x al quadrato uguale t e riscrivere t al quadrato più t meno 2 uguale 0 troviamo le radici t 1 2 uguale meno b più meno la radice quadrata di 1 meno 4ac cioè più 8 fratto 2a fratto 2 uguale meno 1 più o meno la radice di 8 più 1 cioè la radice di 9 è 3 e quindi più o meno 3 fratto 2 questa ci dà meno 3 meno 1 meno 4 fratto 2 è meno 2 e poi meno 1 più 3 è 2 fratto 2 è 1 e quindi ora risostituendo x al quadrato a t otteniamo x al quadrato meno la prima radice cioè più 2 che moltiplica x meno la seconda radice cioè x al quadrato meno 1 uguale a 0 x al quadrato più 2 non ci dà soluzioni mentre x al quadrato più 1 ci dà due soluzioni che sono più e meno 1 e queste sono le scisse dei punti di intersezione tra le due curve ora possiamo scrivere che l'area è uguale come detto per la simmetria due volte l'integrale tra 0 e 1 di 4 fratto 1 più x al quadrato che è y1 ed è sopra la parabola meno la parabola che è appunto sotto quindi 2x al quadrato in dx uguale dividiamo l'integrale in 2 e abbiamo 2 per 4 per quanto riguarda il primo termine integrale tra 0 e 1 di 1 fratto 1 più x al quadrato in dx meno 2 portiamo fuori il 2 integrale tra 0 e 1 di x al quadrato in dx uguale uguale ancora 8 per il primo integrale che moltiplica qui possiamo integrare l'integrale di 1 fratto 1 più x al quadrato è l'arco tangente di x da integrare tra 0 e 1 e poi meno 2 per 2 4 l'integrale di x al quadrato è un terzo x al cubo da calcolare lasciamo fuori la costante tra 0 e 1 uguale quindi 8 arco tangente di 1 meno arco tangente di 0 che è 0 tutto che moltiplica 8 meno 4 terzi che moltiplica 1 questo è uguale a 8 l'arco tangente di 1 è pi greco quarti quindi pi greco quarti meno 4 terzi in definitiva 8 diviso 4 è 2 il risultato dell'area è 2 pi greco meno 4 terzi bene per questo video finiamo qui in basso a destra trovate il tasto per iscrivervi al canale attivate la campanellina in modo da essere aggiornati automaticamente sulla pubblicazione dei prossimi video se il video vi è piaciuto e soprattutto se vi è stato utile mettetemi anche un like e vi ringrazio condividete sui vostri social così che potremo aiutare più persone possibili e anche far crescere il canale perché no descrizione ai miei contatti mail, instagram, facebook grazie un saluto a tutti e alla prossima